Allora mi scuso se alcuni video li faccio qui dal telefono e non dal computer ma io non ho sempre il computer quindi delle volte mi devo diciamo adeguare Però da domani qualche video sul computer ci sarà In genere faccio più video sul computer che dal telefono almeno per quanto riguarda il calciomercato Purtroppo oggi lo devo fare col telefono, so che la qualità fa schifo però Tanto dovete non guardare la schermata, anche io in realtà quello, ma ascoltare quello che dico Insomma, detto questo, come potete ben vedere dalla schermata, ormai l'Inter si assicura Davide Frattesi Io sono un estimatore di Davide Frattesi, lo volevo veramente tantissimo alla Juventus Però vi dico anche che se anche è andata all'Inter, cioè amen Cioè io lo volevo al posto di Rabiot, però 40 milioni, secondo me erano tanti Cioè io ho sempre apprezzato Frattesi, io l'avrei preso anche per 30 milioni 40 mi sembrano un po' tantini, mi sembrano un po' tantini, quindi va bene avere Rabiot, cioè fine Io ripeto, io Rabiot non l'avrei tenuto, avrei preso forse proprio Frattesi come sostituto Però alla fine Frattesi andrà all'Inter Allora, alla fine l'affare si concluderà, vabbè tra poche ore Tra poche ore, però è fatta È fatta, il Milan aveva anche incontrato il Sassuolo Fordani aveva incontrato Carnevali A pranzo per discutere proprio Davide Frattesi C'era stato anche un piccolo inserimento del Napoli Questo lo riferisce di Marzio Però l'Inter aveva il gradimento del calciatore Cioè il calciatore voleva tutti i costi di Inter Il Milan, 40 milioni per Frattesi, non li voleva spendere Anche perché il Milan è praticamente in chiusura per Reinders Quindi il Milan non voleva Frattesi a cifre top elevate La Roma non è mai stata concretamente vicina al giocatore La Juve, per la Juve era il nome più caldo in entrata Fino al quasi non rinnovo di Rabiot Però poi quando abbiamo rinnovato Frattesi Le Frattesi non si è più discusso Il Milan appunto non è una priorità per il Milan Quindi l'unica squadra rimasta era l'Inter All'Inter Quindi Frattesi andrà all'Inter per 25 milioni di euro Più mulattieri in scambio Mulattieri che l'anno scorso ha fatto molto bene Tra l'altro a Frozinone È stato uno che ha segnato tanti gol L'Inter appunto concluiva di questo affare Come dicevo prima Con un prestito con un obbligo di riscatto A 25 milioni Più mulattieri a Sassuolo L'Inter valuta mulattieri 8 milioni E il Sassuolo ha accettato questa contropartita Quindi l'affare più o meno Si conclude sui 33 milioni Anche se Allora Frattesi andrà appunto all'Inter In prestito con obbligo di riscatto Quindi l'Inter pagherà questi soldi Non ora Ma li pagherà a fine stagione Prestito con obbligo Vuol dire praticamente Trasferimento a titolo e finitivo Solo che i soldi non li paghi ora Ma li pagherai a fine stagione Ma l'Inter darà mulattieri a Sassuolo Che comunque a Sassuolo piace i mulattieri L'Inter non punta sui giovani Che hanno e quindi li danno via Li danno via Quindi Sassuolo si assicura mulattieri In scambio Già da ora Ma l'Inter si assicura già da ora Frattesi E appunto sarà un prestito Con obbligo di riscatto I 25 milioni L'Inter li pagherà A fine stagione Ecco L'Inter era una di quelle scuole Che non voleva eventualmente Partecipare Ad Aste Cioè se magari Non lo so La Roma si faceva sotto Se mia si muoveva con più Non lo so Con una tempistica diversa Se il Napoli magari Si muoveva In maniera concreta L'Inter secondo me Non andava ad affondare il colpo Questo acquisto È derivato da Cisemi Brozovic Brozovic è andato Per 18 milioni All'Arabia Saudita Chiaro che dal punto di vista Tattico Non è l'acquisto ideale Perché forse Tra tutte le squadre L'Inter è quella Che ha meno bisogno Di Frattesi Perché un Frattesi È un po' un Barella Perché Frattesi Gioca sul centro-sinistra Dunque uno tra Barella E Frattesi Giocherà a destra Giocherà a destra Tra i due Credo più Barella Che Frattesi A meno che Frattesi Non giocherà a titolare Però credo che almeno 25-30 partite Da titolare Frattesi le giocherà Il giocatore Un campista Box to box L'inserimento Segna tanti gol Ma secondo me Se ne mangia pure tanti Cioè è uno che potrebbe fare anche 15 gol a campionato Però è uno che segna È uno che segna E forse ripeto Dal punto di vista tattico Non è l'uomo Troppo giusto Cioè Dal punto di vista tattico Magari Era meglio per una Juventus Per magari una Roma Non lo so Però Frattesi Comunque È sempre stato abituato A giocare O a due O a tre Nel 4-2-3-1 Nel 4-3-3 Adesso a solo Quindi per Frattesi Nel soldo della primavera Dell'Inter E considerando che l'Inter Ha tanti di cui debili A far paura Cerca sempre di Pagare i giocatori Al costo più basso possibile Cerca sempre di dare appunto Delle contropartite Tecniche gradite In questa casa Al Sassuolo Che è sempre una scuola Che accetta i giovani Quindi Che dire Che voto do all'Inter Allora ripeto Un calciatore molto forte È un calciatore Che prima o poi Il salto di qualità Lo doveva fare Lo doveva secondo me Già fare l'anno scorso Poi è rimasto a Sassuolo E anche lui ha detto Ho fatto un ritiro schifoso Perché Frattesi Probabilmente Qualche Cioè Qualche mese fa Era concentrato Sulla Dio Invece Poi Frattesi Era rimasto Però già l'anno scorso Io Frattesi Lo volevo alla Juve Poi è rimasto L'ha fatto Un'ottima stagione Come al solito Appunto Andrà all'Inter Andrà a San Siro Giocherà la Champions Per lui tanta roba Per lui veramente Tanta tanta roba Credo che Ripeto Dal punto di vista tattico Non è forse Da questo migliore dell'Inter Non è da questo migliore dell'Inter Però io se devo dare un voto Do Per il prezzo Poi Cioè Perché comunque Carneoli chiedeva 40 milioni E l'Inter Cioè Marotta È stato molto furbo A spendere 25 milioni Che manco dovrà pagare ora Perché sarà un prestito Con un obbligo Di riscatto Quindi questi 25 milioni Li pagherà certamente Ma li pagherà A fine stagione Ed è stato bravo appunto Marotta a pagare poco Perché 25 milioni Per frattesi Dovendamente sono pochi 40 sono tanti Più o meno Il prezzo giusto Era 30-35 milioni Non di più È stato appunto Bravo Marotta A dare anche Molte in scambio Secondo me Detto questo ragazzi Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di questo colpo Non so Chi giocherà a sinistra Tra Barella Frattesi Non so manco Chi giocherà a destra Frattesi ripete Sempre stato abituato A giocare O a 2 Ma soprattutto A 3 In un centrocampo Però L'Inter Fa un colpo Straordinario Perché il calciatore Può diventare Uno dei centrocampisti Italiani più forte Più forti In questi anni Comunque Per me Frattesi Diventerà Veramente Molto Ma molto Forte Allo stesso tempo Dal punto di vista Tattico Non era Probabilmente Il miglior acquisto Che si poteva fare